Lo SwissTrack GPS Tracker ti permette di seguire la tua posizione da qualsiasi parte del mondo grazie alla sua app per iPhone e Android. Scarica l'applicazione, disponibile gratuitamente nel Play Store di Android e nell'App Store di Apple, sul tuo smartphone e connettiti al tuo tracker in un batter d'occhio inserendo semplicemente il suo numero IME e la password. Puoi già iniziare a monitorare direttamente. Sotto la voce di menu tracciamento in tempo reale è possibile visualizzare la posizione attuale del tracker in diretta su una mappa di Google Maps. L'app aggiorna automaticamente la posizione del tracker ogni 10 secondi. Inoltre, è possibile impostare un'area in cui il tracker è autorizzato a muoversi nella voce Geofence. Se il tracker lascia questa zona da voi definita, sarete automaticamente avvisati tramite messaggio Push sul vostro smartphone. Con l'aiuto dell'app di tracciamento, si può anche vedere dove il tracker è stato in passato. Per farlo, basta inserire il periodo di osservazione desiderato nell'area dati storici. Nella SwissTrack Tracking app può anche effettuare varie impostazioni per il GPS tracker. Per esempio, puoi selezionare come il tracker deve notificarti nella voce di menu impostazioni. Potete anche attivare e disattivare le funzioni di monitoraggio aggiuntive come l'allarme vibrazione o il rilevamento del rumore. La SwissTrack Tracking app, insieme allo SwissTrack GPS Tracker, consente un posizionamento preciso, è disponibile per tutti gli smartphone più diffusi, offre numerose funzioni ed è un gioco da ragazzi. SwissTrack GPS Tracker è il dispositivo di monitoraggio completo. SwissTrack GPS Tracking app, insieme allo SwissTrack GPS Tracking app, insieme allo SwissTrack GPS Tracker.